Alimentare le auto con i rifiuti sarà presso una realtà, come ce lo racconta Davide Mainero di Acea di Pinerolo, attraverso la loro bioraffineria sperimentale. Grazie per l'opportunità. Dunque noi abbiamo sostanzialmente due progetti in corso che partono da Forso, quindi dall'umido alla raccolta dell'umido. Noi già oggi produciamo biogasse da biogasse energie elettrica e termica e in prospettiva vuol dire giugno di quest'anno il primo impianto di purificazione o upgrading da biogasse biometano e a un anno di distanza, quindi nel 2015, la possibilità di alimentare delle autovetture direttamente. Il progetto prevede di fatto la realizzazione di un'unità con una taglia da 50 metri cubi ora di biometano prodotto ed è questo progetto sarà in corso quest'anno, quindi è quello che dicevo parte a giugno 2014. Ci sarà un periodo sperimentale perché è un progetto di ricerca che speriamo si concluda in parallelo all'iter autorizzativo del decreto del dicembre e quindi poi ci permetta di andare effettivamente a utilizzarlo o in rete o in autotrazione. L'altro progetto che invece vede coinvolto il centro di ricerca Fiat che si chiama Biometair è un progetto che prevederà un periodo di test di un'autovettura ibrida metano barra idrogeno, quindi idrometano elettrica e questo dovrebbe svolgersi nel corso del 2015. La vostra esperienza può essere da esempio per altre realtà italiane? Presumo di sì, nel senso che noi siamo una multi utilities che sostanzialmente gestendo anche i rifiuti e nel nostro caso anche la distribuzione gas a rete e quindi nella gestione dei rifiuti abbiamo sia la raccolta che il trattamento, siamo uno dei possibili esempi da replicare su situazioni simili, un po' in autarchia se vogliamo sul carburante. Quando il progetto sarà portato a termine quali benefici deriveranno dall'utilizzo del biometano? Noi oggi abbiamo preventivato dei benefici diretti potenziali che sono quelli di sostituirsi, autoprodursi un combustibile e quindi controllare in qualche modo il costo del combustibile, considerando che partiamo da scarti, quindi da rifiuti e quindi noi già oggi siamo pagati perché facciamo un servizio in questo senso. Un primo beneficio potenzialmente che è più importante dal punto di vista economico potrebbe essere quello se potremmo accedere agli incentivi del decreto di dicembre ma oggi non è certo insomma.